Grazie E tu da dove diavolo spunti? Parliamo di te. Dove andrai ora? A New Orleans. Posso trovarti un lavoro. Per cosa? Io appartengo iPhone. Farò ritorno in Africa. Quel ciondolo è molto particolare. Ne ho già visto uno così. Credevo che fosse unico. Infatti è così. L'ha fatto mia madre con le sue mani. Forse ti ricordi male? No. La donna che portava quel ciondolo si chiamava Jeanne. È stata una delle prime persone a venire qui. Come potrei dimenticarla? Ma mia madre si chiamava così. Dov'è questa donna? Devo vederla. Non lo so. Viveva in una casa privata al confine sud del campo. Devi andare. De Ferrer ti starà cercando. Te la caverai da solo. Sì. Mi nesconderò fino al cambio della guardia al tramonto. E poi tenterò la fuga. Stavolta non mi prenderanno. Buona fortuna. Stavolta non mi prenderanno. Stavolta non mi prenderanno. Grazie a tutti. 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 Stanno mentendo.